È diventato un problema, si picchiano davanti ai nostri pullman, vicino al nostro box, il nostro personale non può fare altro che chiudersi nel gabbiotto e nei bus. Hanno paura e sono in pericolo anche i cittadini che si trovano a passare da lì o che devono prendere l'autobus. Sono state queste le parole del presidente di Amtab, Sabino Persichella, poche ore dall'ennesimo episodio di violenza in Piazza Moro, nella zona di fermata dei bus. Un problema già preso in considerazione dalla municipalizzata che già dopo l'aggressione di giorni fa i danni di un autista ha messo nero su bianco una serie di proposte portate poi in prefettura per aumentare la sicurezza sui bus sia per i dipendenti che per gli utenti. La videosorveglianza che già è presente con le telecamere che registrano tutto ciò che accade sull'autobus e che quindi possono essere verificabili e utilizzate dalle forze dell'ordine in caso di cose. Queste già ci sono e già ci aiutano enormemente. Ripristinare il pulsante d'allarme che è un pulsante dato agli operatori per spingere, mettersi in contatto con la centrale operativa e lanciare un SOS. Quindi noi sappiamo che c'è un problema su quell'autobus, su quella linea. Un'altra secondo me ottima idea lanciata dalle sigle sindacali è stata quella di un altro pulsante che attivi un segnale luminoso di modo che le forze dell'ordine ma anche il passante vedendo passare un autobus con una luce lampeggiante, si renda conto che lì c'è un problema e quindi possa intervenire direttamente o segnalarlo a qualcuno. Non è assolutamente da trascurare. Poi c'è la parte però che non è sanzionatoria e quindi la formazione degli autisti per spiegare come approcciarsi ad aggressori e quindi che comportamento tenere. un programma di formazione per la città, per gli utenti, per tutti, di civismo, di rispetto delle regole.